Siamo con l'organizzatore della festa qui a Pione, il signor? Alberici Armando Armando, due giornate di festa Sì, due giornate speciali per Pione perché è la nostra sagra del paese ieri è stata sagra ma riassunta, oggi San Rocco e sono due giornate veramente particolari perché bisogna preparare la festa e quindi bisogna organizzare tutto quello che serve per lietare le persone e questo comporta veramente un grande lavoro per noi perché viene tanta gente e siamo contenti però questo comporta tanto lavoro Perché voi avete fatto anche da mangiare, non soltanto la musica, il teatro? Abbiamo da mangiare, gastronomia, abbiamo specialità del posto e i pissarei, abbiamo la grigliata, la porchetta, abbiamo tante cose però la nostra chicca poi è la comedia dialettale che tarda serata aglietta le persone perché viene fatta da noi, dai ragazzi del posto che organizzano la festa la inventano, la preparano, fanno le prove e poi la recitano in dialetto italianizzato per chi non lo capisce e poi viene tradotto però è bello e tutto viene perché diciamo io sono anche presidente del circolo Acli e tutto viene organizzato diciamo dal circolo e devo dire che sono fortunato perché ho dei collaboratori molto validi che mi danno una grossa mano perché se la festa riesce bene è perché i collaboratori collaborano bene Quindi diciamo che tra ieri sera e questa sera è un successo? Un successo enorme, specialmente ieri sera c'era il mondo intero e veramente non ci si muoveva, questa sera per noi è la seconda serata è altrettanto molto valida, sono molto contento Bene, ricordiamo quando viene fatta questa festa? Viene fatta tutti gli anni, il 15 agosto e il 16 agosto sera noi lo facciamo alla festa solo alla sera per dare la possibilità ai ristoranti della zona di lavorare a mezzogiorno con i turisti, con la gente di passaggio noi la festa la facciamo solo alla sera La ringraziamo veramente perché è organizzata molto bene e le auguriamo buon lavoro Grazie, molto gentile Grazie